Io penso che possiamo iniziare quindi lascio la parola a Lorenzo, avete circa un'ora a testa di relazioni. Riprendiamo dove ci siamo lasciati e in questo secondo appuntamento affrontiamo un po' la tematica più nel vivo, entriamo un po' più nel vivo della gestione e quindi daremo degli spunti, degli accenni a quelli che sono praticamente i punti salienti sia per quanto concerne l'impianto di mandorleti super intensivi e sia per quello che riguarda quantomeno dei riferimenti per la gestione della chioma. In questa fotografia manca la collega Titti, io non ho trovato una fotografia in cui eravamo tutti e quattro insieme, però la prossima volta sarà la volta buona. Allora giusto così un breve riassunto del motivo per cui effettivamente quali sono le motivazioni principali perché è importante, perché è opportuno, perché conviene scegliere diciamo una gestione di mandorlo super intensivo. Ora, uno degli aspetti principali è chiaramente la rapidità dell'entrata in produzione, un sistema che è in grado diciamo di, a seconda delle varietà, dimostrare i primi frutti già al secondo, in realtà diciamo è dal terzo anno che si comincia ad avere una prima raccolta. Un altro aspetto molto importante che accomuna tutti quelli che sono i sistemi super intensivi è la meccanizzazione praticamente di quasi tutte le operazioni, dalla potatura alla raccolta. Chiaramente diciamo è opportuno ricordare come ci siano delle leggere differenze nelle macchine che raccolgono l'uva così come le olive rispetto invece al mandorlo, ma si tratta praticamente diciamo delle stesse macchine, quindi per un'azienda che ha già delle macchine che impiega per la raccolta della vite o dell'olivo, chiaramente avere la possibilità di avere un'altra coltura su cui poter utilizzare la macchina chiaramente diciamo permette di ammortizzare prima i costi diciamo di acquisto. Tra le operazioni che è possibile meccanizzare è certamente anche la potatura. La potatura meccanica effettivamente diciamo può iniziare già a partire dal secondo anno. Nel primo anno, vedremo poi nelle slide successive, diciamo... scusate, devo togliere un attimo... Nel primo anno è opportuno comunque diciamo che ci sia un intervento manuale che riguarda sia la legatura sia la sistemazione delle piante lì dove ci sono degli errori da correggere e comunque diciamo è dal secondo anno che le piante possono essere sottoposte a potatura meccanica. Un altro aspetto molto importante della del sistema superintensivo riguarda la sanità dei frutti. Ricordiamo infatti come è stato detto nel diciamo nel seminario precedente che l'ottanta per cento dei frutti di mandorlo a livello mondiale sono prodotti in California e come ha ben spiegato il professor Caruso, i frutti sono raccolti da terra con tutta quindi una serie di problematiche di aflatossine, di salmonella, quindi tutto ciò che ha a che fare con la contaminazione del frutto in questo caso nella raccolta direttamente dalla pianta effettivamente non c'è. Quindi c'è un aspetto salutistico comunque diciamo anche proprio di a livello legislativo di prodotto conforme alla commercializzazione che è possibile ottenere negli impianti superintensivi comunque con raccolta del frutto dalla pianta direttamente. Quindi a questi vantaggi, alla maggiore precocità nell'ottenere le alte produzioni e alla maggiore diciamo anche stabilità di alcuni investimenti possiamo vedere che ha fatto seguito nel corso diciamo di questi anni il sistema superintensivo del mandorlo è abbastanza recente comunque sta avendo diciamo una grande diffusione a livello mondiale sistema che ad oggi siano stati realizzati all'incirca un 5.000 ettari di mandorlo superintensivo credo anche qualcosa in più poi magari Roberto ci potrà dare qualche numero più aggiornato però orientativamente siamo su quella cifra di cui 700 in Italia e 500 in Puglia, un migliaio circa di ettari in Portogallo ma sappiamo che il Portogallo accelera ad una velocità molto maggiore rispetto all'Italia, 2.500 in Spagna e vedete negli Stati Uniti un sistema di allevamento del mandorlo che è in controtendenza rispetto invece alle altre parti del mondo. Il sistema tradizionale va ancora per la maggiore ma proprio a seguito di una serie di modifiche a livello sia delle norme ambientali sia dell'utilizzo dell'acqua sia dell'inquinamento dell'aria il sistema tradizionale dovrà per forza di cose essere rivisto quindi ci sarà spazio probabilmente anche per questo sistema innovativo. Allora entrando nella gestione più nello specifico è opportuno prima di cominciare stabilire alcuni concetti chiave. Il sistema superintensivo che sia nel mandorlo che sia l'olivo o che siano altre colture ha dei principi molto semplici abbastanza lineari ma che vanno rispettati in maniera direi pedissequa. Si tratta diciamo di principi molto semplici che però vanno comunque diciamo rispettate alla lettera. Non c'è spazio per improvvisazione o per delle interpretazioni personali come spesso invece diciamo è abitudine comune in campo quando diciamo ognuno vuole dare la sua personale versione del sistema. A questi due aspetti principali va comunque aggiunto anche un aspetto fondamentale del monitoraggio, del continuo monitoraggio. Non abbiamo più le 300, 400, 500 piante per ettaro in un sistema tradizionale ma invece abbiamo 2000 piante per ettaro quindi qualora ci dovessero essere dei problemi è opportuno innanzitutto individuare dove questi problemi sono presenti per poi intervenire in maniera tempestiva. Ho voluto mettere questa slide, c'è stata una una discussione poi vi farò vedere quella che avevo pensato all'inizio. Giusto per farvi capire in maniera diciamo abbastanza semplice, questo vuol dire diciamo violare quelle che sono le regole del superintensivo, andare contro quelli che sono i principi che adesso diciamo vedremo insieme equivale a fare un frontale perché vedrete diciamo abbiamo alcuni esempi in cui diciamo sarà chiara e lampante questa mia affermazione. Io avevo pensato a questa diciamo a questa immagine diciamo di un gioco con delle regole in cui ad un certo punto si vogliono cambiare alcune di queste regole però il risultato è che alla fine comunque ci si fa male. Ecco che cosa intendo quando parlo di errata gestione, errata interpretazione della cultura. Davanti ad una realtà del genere che esiste perché diciamo ci sono testimoni oculari che hanno visto questo impianto, davanti ad una realtà del genere la prima affermazione il sistema non funziona, no il sistema funziona ma ha delle regole ben precise, poche, chiare, che vanno rispetto. Un altro aspetto diciamo molto importante è la gestione del filare. Ora è molto importante infatti questo aspetto perché diciamo che nei primi anni, nei primi due anni, le piante devono poter esplorare il terreno, devono potersi quindi affrancare, devono potersi quindi sviluppare nel terreno per garantire ancoraggio alle piantine ma al tempo stesso anche a un sufficiente volume radicale per l'approvvigionamento idrico e nutrizionale. Per la gestione del filare quindi sarebbe opportuno, nei casi in cui diciamo si scelga di portare diciamo di condurre il mandorleto in regime integrato, sarebbe opportuno realizzare la gestione del filare con il diservo. Le piante infatti vengono fornite di shelter plastico che permette, quindi queste piante possano essere gestite con il diservo senza andare a creare dei veri e propri terremoti in alcuni casi, e vedrete poi dalle fotografie cosa intendo, dalla risosfera negli strati superficiali. Ricordiamo sempre che si tratta di piantine molto piccole e quindi dei piccoli danni che per noi possono essere piccoli negli primi strati, nei primi strati del terreno, possono invece essere per la pianta un vero e proprio stress che di fatto si traduce in una diciamo in uno stop, in un blocco della crescita. E bloccare la crescita in un impianto ad alto costo in cui bisogna diciamo rientrare subito delle spese, quindi un impianto che deve riuscire ad entrare in produzione già al terzo anno, ci rendiamo conto come ogni intervento errato è esattamente un frontale che si va a fare con la realtà. Di fatto dopo il primo secondo anno è possibile poi intervenire con il controllo meccanico diciamo con dei sarchiatori, con degli attrezzi interceppo o in alcuni casi, qualora si voglia comunque alternare il diservo alle lavorazioni, sarebbe più opportuno intervenire con le lavorazioni nel periodo autunnale, nel momento in cui la pianta è in stasi e quindi di fatto non si creano problemi nella fase di accrescimento, nel crescimento dei germogli. Un aspetto molto importante nella gestione dello shelter è appunto che lo shelter debba essere posizionato sul terreno, non debba essere interrato. Ci sono state situazioni reali in cui impianti interi stavano rischiando completamente di collassare perché come in questo caso lo shelter era stato interrato con gli apporti idrici quotidiani, si era creata una sorta di camera umida a livello del colletto per cui le piante avevano iniziato praticamente a ingiallire e collassare, stavano iniziando a svilupparsi tutta una serie di funghi patogeni come ad esempio fitophthora o altre problematiche come ermillari o rosseline. Quindi è importante che lo shelter, questa protezione plastica, sia appoggiata sul terreno perché la sua funzione è quella di proteggere le piante diciamo dal diservante qualora si scelga di gestire il pilare con il diservo. Passando invece adesso al discorso della gestione della pianta, così come in tutte le colture arboree, abbiamo una fase di potatura di allevamento e poi invece la potatura di mantenimento. Ora quali sono i principali obiettivi della potatura di allevamento? L'obiettivo principale è costituire una parete nel superintensivo che sia mandolo, che sia olivo, non si ragiona più per pianta singola ma si ragiona per parete, quindi bisogna costituire una parete che sia più piena, più chiusa possibile perché ogni vuoto costituisce una mancata produzione. Quindi per poter raggiungere questo obiettivo è necessario tener conto di quelli che sono i differenti abitus vegetativi e quindi la differente capacità di ramificazione che abbiamo visto nel precedente webinar che contraddistingue alcune varietà rispetto a delle altre. Abbiamo una guara che ha una bassa capacità di ramificazione rispetto invece ad altre varietà. Questa slide l'abbiamo già vista, quindi un aspetto molto importante dal momento in cui le piante vengono messe a dimora è innanzitutto verificare quando le piante vengono messe a dimora. Il trapianto infatti può essere autunnale e nel caso di trapianto autunnale quindi la pianta all'unica funzione di trapianto autunnale è quella di far sì che le piante possano effettivamente radicare, possano emettere diciamo delle radichette al di fuori del pane di terra e quindi possano partire poi successivamente nel periodo primaverile nella fase del germogliamento. Un'altra possibilità invece è una piantagione primaverile precoce. Ora nel caso di trapianto autunnale o nel caso di trapianto primaverile precoce inteso come aprile massimo maggio è possibile in base alla gestione nella stagione in ricua e nutrizionale eseguire due o anche tre tagli di formazione.